Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua su Soma, la serie horror che ripeto per un'altra volta poi, ora un po' sarà sottointeso faccio editandola e registrandola senza luce che è un gioco horror e non tagliando mai, se non quando magari mi perdo e sto due ore nello stesso punto per andare avanti ma altrimenti tengo tutto, i momenti di silenzio prevarranno nel video perché ovviamente essendo un gioco horror, oltre ad immedesimarmi non saprei nemmeno cosa dire per far sì che il video sia genuino per un gioco horror quindi adesso basta parlare e andiamo a giocare, anzi a cagarci addosso sto cagando addosso, c'è il cagamento e basta porta chiudiamola che è meglio va allora noi siamo arrivati dal sotto che è qua ok possiamo andare di qua volendo di là su no no su ho paura oppure qua no ragazzi mi sto già cagando addosso come di qua va po' di sì Pensavo che il girarmi fosse Cioè Cuorissima Aspetta facciamo una cosa va Che meno posso non guardarmi le spalle Niente Dici solamente che Questo Cioè solamente lui Vabbè Io non Non indago Ah Io non indago oltre Che non mi corriscia niente su quegli agari Basta Ogni volta dico Basta Questo episodio lo faccio senza caggarmi ma Cos'è la parte mi fa meno paura Ragazzi Che cosa Chi è che parla Chi è che ha parlato Che cosa è che cosa è che C'è chi è? C'è chi è? C'è chi è? Sì, c'è il mio corpo? Io cerco di cercare di cercare. Sì, sono un uomo. Sei tu? Mi nome è Simon. Hai saputo qualcosa di questo posto? Oh, tu sai? C'è un po' meno vero. Guarda, mi è ovviamente colpito. Se volete vedere qualcuno di qui, dire loro dove sono. Quindi... dove sei? Hai proprio? Io sono proprio qui. Cosa? Voi? 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 Non posso non aspettare che pare. Voi? 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 Non è vero. Voi? 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 è stato un po' di più la intuizione non cresce sulle tu magari sei trappato in un robot magari? tu mente è molto più forte ma...eh... non voglio te arricchire ma credo che sei trappato in un robot ti chiedi che hai occhi che io sono qui io ho visto un po' di me ho visto un po' di me quando sei un po' di me vedo un video di un'unità Ok, mi è convinto di essere un umano e fin qua è abbastanza serio. Ecco! E' un po' di paura. E' un po' di paura. Molto paura. Che gli succederà? Vabbè, lui soffre. Ma porco cazzo. Ti non sei niente queste parole. Dai! Questa è la parte più paurosa di tutte, ragazzi. E' un po' di paura. Tu hai la finala terapia di turbo? Tutto è attrazione. Abbiamo venduto le nostri vettori come possiamo. Quindi è tutto. Abbiamo bisogno di poter scavare i Pathos 2 fino al prossimo Apocalypse. Ma pronti. Sembra che non scivolta. Non voglio morire qui qui. Non voglio rimanere qui. Questa è arrivata. Ma che dovremmo da più blocchi. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything, everything from the barracks to the comp center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a hell of a time getting a rock. Troppo buono per andare avanti, ragazzi. Deve andare avanti in forza, ragazzi. Ok, chi qua dovrebbe fare... Cioè se c'è qualcosa è qua. Probabilmente si deve rinascondersi da qualcosa. Non lo so. Si blocca. Ok. Quindi... La linea non si passa. Vedremo qua. Qui c'è un bocchino di sedicù. Ok. Quello che lei dice, insomma. Una volta tirata lei va. Ecco. Stai salvando, ragazzi. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non si aiuta più le porte? Tutto aper... Tutto aperto, no. 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 No, no. E ti pareva? Non mi ha visto, non mi ha visto. Vabbè, ha capito. Non mi ha visto, non mi ha visto. Shhh. Non mi vede. Non mi vede. Non mi vede. Perché si bug? Non mi vede. Vieni, che devo dire? Corri. Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Corri, no, 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 non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto dove va? su ok va di là quindi andiamo a girarlo ora per farlo a breve vediamo dove va lui ora credo va da sinistra credo ti prego non tornare indietro entra ok dovrei essere più o meno al sicuro devo correre perché non più non si possa più cosa? dove si passa scusate dove è il mostriciatto? eccolo lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo corri 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 e li fermo se è baggato bimbo si è baggato a bestia si è baggato si è baggato a bestia si è baggato parecchio anche ecco ecco si è anche sbaggato però corri corri sbucci corri sbucci sbucci devi correre no sbucci sei baggato ma prima sbucci sei bloccato sbucci devi correre e basta corri corri fregatene corri fregatene non guardarlo non ti prende non ti prende non ti prende non ti prende prima o ora si eh adesso è anche sanguinante maldittendo si va e mettere il dittino nel buco di culo eh no 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 non mi hai visto perché non mi hai visto ragazzi mi sono completamente perso perci